Un portiere è finito a terra in uno scontro di gioco, l'attaccante avversario che segna contro la capolista ma alla ripresa del gioco tutti si fermano e permettono alla squadra avversaria di segnare. Allo stadio di Grotta Minarda alla fine non ci sono stati insulti o grida, solo applausi per i ragazzi dell'Azzurro a Calcio che ieri contro la capolista Ercolanese sono stati protagonisti di un gesto di vera sportività in un calcio sempre più malato. Il campionato era quello regionale Under 16 e l'allenatore Michelino Bruno e i suoi collaboratori non hanno avuto nessun dubbio nel prendere una decisione solo all'apparenza clamorosa. Con il mio collaboratore ci siamo subito guardati, abbiamo parlato con i ragazzi in pochi secondi e abbiamo deciso di concedere il gol agli avversari restando fermi sulla ripresa del gioco. E alla fine avete anche perso la partita? Sì abbiamo perso, va bene due rigori, poi ci sono stati due rigori nel secondo tempo, ma questo veramente passa in secondo piano perché loro con tante persone al seguito sono venuti con due pullman da quel anno, c'era molta gente, hanno davvero apprezzato questo gesto facendoci un lungo applauso. A fine partita non si parlava del risultato ma solo di quello che era stato in effetti proprio il rapporto tra i ragazzi in campo, tra le società. L'azzurra calcio è dunque diventata a suo malgrado un simbolo, eppure secondo Bruno questi gesti non dovrebbero rappresentare una eccezione. E' vero, noi siamo contenti di questo, lo abbiamo sempre fatto, continueremo ad avere questa iniziativa con i ragazzi sempre nello stesso modo, speriamo veramente di essere un esempio, di cambiare un po' questa cultura che c'è, che troppo spesso invece racconta episodi diversi. Come si fa a educare prima che i ragazzi genitori? Difficile, è difficilissimo, purtroppo il calcio in Italia è un costume di vita, siamo molto indietro, si farà tanta fatica secondo me.